Cooperazione di comunità in epoca 4.0. Questo è il tema filo conduttore dell'Assemblea annuale di Conf Cooperative dell'Adda, realtà nata un anno e mezzo fa dall'accorpamento dei Conf Cooperative Lecco e Conf Cooperative Sondrio. L'occasione per il presidente Gabriele Marinoni di delineare le strategie del movimento mutualistico dei due territori alle prese con sfide epocali a partire dalle opportunità offerte dalla rivoluzione tecnologica. Ma non solo, nel corso dei lavori ospitati a Villa Monastero di Varenna e ai quali ha preso parte il presidente di Anci Lombardia, nonché sindaco di Lecco Virginio Brivio, il presidente di Conf Cooperative dell'Adda e i relatori si sono soffermati in particolare sul rapporto tra mondo della cooperazione e comunità. A lanciare una interessante suggestione proprio Marinoni forse ha dichiarato è giunto il momento di non chiederci come stanno le nostre realtà cooperativistiche ma come stanno i territori nelle quali operano. Dentro la cooperazione c'è la cultura del territorio e della comunità ma oggi è un momento in cui è più difficile rappresentare questo collegamento che dovrebbe essere vitale. Quindi quello che dobbiamo fare è ripensare alle comunità come dei fattori competitivi per le imprese e non viceversa. Non si tratta di costruire i sistemi di welfare o di convivenza come risultato dell'impresa che corre ma di pensare che l'impresa potrà correre se sarà ben agganciata al proprio territorio e alla propria comunità. Un chiaro messaggio circa la necessità di costruire un nuovo modello economico, quello giunto attraverso i contributi di Guido Caselli, direttore del Centro Studi e Ricerche Union Camere Emilia Romagna, Giovanni Teneggi, direttore di Conf Cooperative Reggio Emilia e Giuseppe Guerini, presidente di CECOP Cicopa Europe, oltre che dallo stesso Marinoni. A me colpisce sempre, anche guardando l'assemblea di oggi, come nonostante i segnali veniamo da una crisi, veniamo da un momento anche difficile in cui i valori della cooperazione sembrano un po' soccombere. Eppure io vedo che c'è molto entusiasmo, credo anche un certo ricambio generazionale nelle nostre imprese e c'è la sensazione che forse più che in altri tempi possiamo fare la nostra parte. Ci sono stati parecchi esempi oggi raccontati in cui in qualche modo questa forma di organizzazione a forte mutualità può interpretare meglio i bisogni delle persone o i bisogni anche legati ai nuovi meccanismi di produzione e ai nuovi meccanismi di consumo. La tecnologia sta facilitando molti passaggi, li sta rendendo più veloci. Tenere al centro la persona il senso è un po' più complicato, allora probabilmente la cooperazione potrà anche compensare o deve lavorare per compensare questo efficientamento tecnologico che non va demonizzato ma va sicuramente ricondotto a senso. Ma dove sta andando la cooperazione in questa epoca 4.0? A indicare la rotta Massimo Minelli, presidente di Conf Cooperative Lombardia. Sta andando verso una rivisitazione del proprio essere, da mutualità interna a mutualità con la cooperazione sociale proiettata verso la promozione della comunità. Adesso sempre più hanno mutualità sistematica che coinvolge non solo il mondo della cooperazione ma tutto il mondo produttivo, delle parti sociali e delle istituzioni affinché insieme trovino un nuovo modo di essere appunto nell'epoca 4.0. La cooperazione ha sempre giocato e investito sulla centralità della persona e quindi se ripartiamo da lì riusciamo anche a coniugare meglio i valori benefici che arrivano anche dalle tecnologie, là dove possono aiutare le persone ma dall'altra parte appunto là dove invece fanno a meno delle persone completamente o schiacciano le stesse, allora a quel punto lì ci fermiamo, ci ragioniamo insieme e vediamo come possiamo trovare una soluzione più rispettosa per tutti. Il presidente di Conf Cooperative dell'Ada Marinoni ha dichiarato nella sua relazione introduttiva che è arrivato il momento di non chiedersi più come stanno le cooperative ma di chiedersi invece come stanno i territori, come stanno le comunità. Questo rientra appunto nella mutualità sistematica ovvero sia la singola cooperativa non può pensare di stare bene in un territorio che sta male, abbiamo proceduto anche in questo territorio a fare molte fusioni e già questo è un passo importante perché ha voluto mettere insieme tante individualità per quanto collettivi in quanto già cooperative, adesso il passo successivo è quello di credere che le cooperative abbiano a cuore lo sviluppo integrale e attento di tutto quanto il territorio. La cooperazione del resto, come ogni altra forma d'impresa, si trova di fronte alle profonde trasformazioni che stanno stravolgendo gli assetti socio-economici del nostro tempo. Ecco allora che la cooperativa di comunità può essere una risposta alla disgregazione sociale dei territori, come ha ampiamente spiegato Giovanni Teneggi, direttore di Conf Cooperative Reggio Emilia. Cooperativa di comunità, cos'è? È una cooperativa fatta da abitanti, ritornanti o nativi, non solo appassionati a un luogo ma che in quel luogo vogliono abitare per sé, per i propri figli, facendo un'economia cioè traducendo l'identità, la storia, patrimonio immateriale e immateriali di quel luogo in economia che rendono sostenibile il loro progetto. Cominciano a fare il sistema fra loro chiaramente grazie anche al movimento cooperativo che le aiuta a nascere, le tiene insieme soprattutto ne valorizza i saperi che di paese in paese ma anche di quartiere metropolitano in quartiere metropolitano possiamo riconoscere, vedere, capitalizzare a favore anche della rigenerazione della cooperazione già esistente. Possiamo dire che tutto ciò rappresenti una forza dirompente? Sì, mi piace il termine perché in effetti questa forma nuova di mutualismo comunitario rompe gli schemi in modo anche dirompente, in modo potremmo dire quasi anche incredibile rispetto alla manualistica politica, alla letteratura economica che abbiamo e questo ci piace. La tecnologia è un fatto positivo, aumenta le nostre possibilità, aumenta anche le possibilità del nostro progetto, quello che poco fa esponevo, cioè del progetto di una cooperazione abitante, di territorio e legata alla relazione fra le persone, ai loro luoghi. Si tratta di volgerla al bene, potremmo dire. La tecnologia può aumentare e rendere ancora più capace di predazione e di massificazione l'economia e i flussi che guardano a quello come propria missione, propria possibilità, propria capacità. Aumenta senz'altro anche la realtà e le possibilità dell'economia di luogo e della mutualità di luogo. Si tratta di approfittarsene, si tratta di utilizzarle, finalizzarle a questi desideri anche con intelligenza e anche con rigore, mi verrebbe da dire. Queste economie dei territori non stanno in piedi solo per una narrazione culturale dei luoghi, stanno in piedi anche con un grande rigore, quasi con cinismo tecnico sulle ragioni della sua competitività. Il buon utilizzo della tecnologia nell'aumentare le possibilità di comunicazione che consente sta dentro questo gioco. Non solo le sfide dell'era tecnologica, ma anche quelle legate all'individuazione di un rinnovato paradigma economico più improntato all'equità, attendono il mondo della cooperazione. Come spiega Giuseppe Guerini, presidente di Cicopa Europe. Io credo che l'obiettivo principale che hanno le cooperative e che devono continuare a perseguire quello di una maggiore democrazia economica e quindi affiancare a un ideale di convivenza delle persone nei mercati evoluti con una democrazia politica, una democrazia fatta di partecipazione e di economia. Su questo ovviamente si innesta immediatamente una questione di equità e a fronte della produzione enorme di ricchezza che comunque lo sviluppo economico del digitale ci sta mettendo avanti. È importante affiancare una rinnovata attenzione alla dimensione della fiscalità trattando in maniera equa la produzione di ricchezza e tassandola laddove viene prodotta. Ad esempio è importante che l'Unione Europea rispetto alle grandi multinazionali del digitale sviluppi un'attenzione capace di far pagare il giusto, che non vuol dire essere punitivi, ma significa far pagare il giusto a questi grandi player dell'economia internazionale. Faccio spesso questo esempio. Apple, la più grande multinazionale, la società più valorizzata in assoluto sul mercato borsistico internazionale, paga in Europa l'equivalente dello 0,60% dei suoi utili pagando le tasse in Irlanda. La cooperativa di consumo di Livigno paga il 60% dell'utile che realizza alla fiscalità italiana e di conseguenza a quella europea. Questa diseguaglianza e questa disequità è una delle cose che bisogna risolvere, perché chiaramente non è possibile che una realtà di piccole o medie dimensioni paghi più tasse di una multinazionale. E questo sfata anche il mito, a volte strumentalmente alimentato, che le cooperative non paghino le tasse. In realtà anche in recenti ricerche, anche in Italia, siamo in grado di dimostrare che le cooperative pagano più tasse delle società per azioni. Da più parti si sottolinea il fatto che c'è necessità ovviamente di più lavoro, ma c'è necessità anche di più lavoro di qualità. Questo è un tema che interroga anche il vostro sistema? Decisamente. È chiaro che il lavoro, come molte altre risorse, è distribuito in maniera diseguale. In passato le cooperative hanno avuto un ruolo fondamentale nella distribuzione più equa del lavoro. Oggi in molti casi sono state catturate nel meccanismo dell'ottimizzazione e della riduzione del costo del lavoro che ha schiacciato moltissimo la componente economica del reddito e del valore prodotto che si è sbilanciata molto nel remunerare investimenti e rendita e sempre meno nel remunerare il lavoro. Da questo punto di vista è chiaro che la qualità del lavoro è collegata alla qualità delle risorse. Credo soprattutto che sia importante cominciare a dire che la crisi di questi anni è stata soprattutto e rimane una grandissima crisi di distribuzione della ricchezza, quindi una crisi di diseguaglianza prima che una crisi economica, perché in realtà la ricchezza globale costruita è andata crescendo, i patrimoni sono andati crescendo, i depositi bancari in Italia sono andati crescendo, ma si sono concentrati. Il denaro non circola perché viene tenuto infruttuoso, perché genera ricchezza da solo quando è in quantità enormi. E questo contribuisce a diminuire il volume di investimenti che sono fatti e quindi la competitività del Paese. È diventato quindi un cane che si morde la cosa. Bisogna rompere questo meccanismo, tornare a fare distribuzione di ricchezza, lavorare in direzione dell'equità e quindi da lì aspettarsi anche una maggiore capacità di fare una crescita inclusiva. Le istituzioni europee, a suo giudizio, credono sufficienza nel sistema cooperativistico? Purtroppo non abbastanza. Porto un dato. Nell'Unione Europea, di 27 Stati membri, le realtà dell'economia sociale, quindi le cooperative, le mutue, l'associazionismo e le fondazioni, occupano 14 milioni di lavoratori. Il 10% del pile europeo è fatto da realtà dell'economia sociale. Purtroppo in questi anni è prevalsa invece una visione di scuole di pensiero, cosiddetta economia ortodossa tradizionale che ha sviluppato un'idea di economia astratta e pura di mercato perfetto, fatta soprattutto di grandi società per azioni, di grandi imprese e quindi questo ha condizionato le politiche europee. Mi pare che l'Unione Europea stia pian piano correggendo il tiro e quindi che si possa guardare con fiducia alla capacità di questa grande esperienza comunque che rimane l'Unione Europea di diventare anche e sempre più l'Europa dei cittadini, della democrazia, della democrazia economica e sempre meno l'Europa del mercato puro, astratto e quindi da questo punto di vista irreale. Siamo tutti dentro a un grande flusso che vive nell'addensamento, vive nella muscolarità anche finanziaria e del consumo di massa l'unica formula di successo, almeno così ci viene presentata. È un meccanismo che brucia relazioni, preda risorse, in un qualche modo risponde anche a desideri e a una logica di consumo che ognuno di noi poi porta con sé anche quotidianamente, ma non consegnandoci valore e non consegnando valore ai propri territori, cioè ai luoghi dove questi consumatori abitano. Quindi cresce assolutamente l'esigenza di relazione. Questo sì, crea anche un nuovo paradigma economico, cioè una nuova opportunità di successo, in un qualche modo anche una nuova possibilità di competizione, di partecipazione a questa sfida globale sulla competizione dei territori, delle persone, delle cooperative che a questo tipo di cultura abitante del territorio si rifà. Vorrei uscire dall'idea di un'alternatività di modelli, di paradigmi, vorrei uscire anche da un'idea salvifica della cooperazione di comunità, da un desiderio onnipotente, da un antagonismo culturale. Tutto questo non ci interessa. Noi scommettiamo su una possibilità e assumiamo un ruolo. Quello vogliamo fare, quello crediamo di poter costruire, questo ruolo ha desideri, emozioni, possibilità che pensiamo di poter conservare alle persone, da qui e nel futuro. Vedendo da qui il nostro mondo avanti 30-40 anni per le prossime generazioni, vorremmo che questa parte di territorio, di emozioni, di desideri, potessero continuare ad avere una risposta. Noi lavoriamo per questo, senza ritenerci né onnipotenti né esclusivi in questo. Ancorarsi ai valori fondanti della cooperazione può rivelarsi insufficiente se non attraverso un'operazione di aggiornamento delle modalità con le quali possono continuare a garantire sostenibilità per le persone, possibilità di sviluppo per le comunità in un'ottica di equità e giustizia. La vera sfida del sistema cooperativistico è quello di sapere interpretare bene i segni del tempo e in questo senso deve ritrovare nei valori fondanti i punti cardini su cui incentrare il proprio sviluppo. Cosa significa questo? Significa che bisogna ritornare nelle assemblee delle cooperative, rileggere insieme quelli che sono i dati storici e chiedersi in un'epoca di grandi cambiamenti e alla luce di quello che abbiamo fatto oggi, qual è la nostra missione e qual è la missione insieme alle altre cooperative e alle altre realtà del territorio che si stanno ponendo lo stesso domande. In questo senso anche l'attività formativa del mondo della cooperazione è assolutamente centrale. Bisogna investire molto nella formazione. E proprio in tema di formazione Gabriele Marinoni è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale a livello nazionale. Certo, Gabriele in questo senso è una grossa risorsa preziosissima qui a livello locale, ma anche a livello regionale. Noi in Regione Lombardia confidiamo molto il Lele perché è portatore di valori e di competenze che vengono anche dalla sua professionalità proprio sul tema della formazione. È diventato presidente di IRACOP Lombardia che è il nostro ente di formazione e appunto proprio in questi giorni con lui stiamo discutendo un piano che ci ha sottoposto di nuove attività formative che vanno nella logica che dicevo prima di essere adeguato ai tempi che la storia ci impone.